esclusivamente dettata dai parametri del regolamento, dalle norme del regolamento e dalle interpretazioni del regolamento che non una volta ma ripetutamente sono state date dalla Presidenza qualunque fosse il Presidente di turno. In particolar modo, e insisto su questo perché è evidente che l'attinenza della materia è stata specificata nello spiccio che peraltro i colleghi possono leggere. In particolar modo il fatto che questi emendamenti non siano stati presentati in Commissione è un argomento non superabile per quanto riguarda la Presidenza. Ora, se nessuno chiede di intervenire sul complesso degli emendamenti, invito la Relatrice a dare il parere 1.11 Colletti. 1.13 Ferraresi. 1.100 della Commissione. Favorevole. 1.101 della Commissione. Favorevole. Grazie Presidente. I pareri del Governo sono conformi a quelli della Relatrice. Grazie. Passiamo ai voti. 1.11 Colletti. Chiede di intervenire l'onorevole Crippa per richiamo al regolamento, mi sembra. Prego. Grazie Presidente. Mi scusi, ma nello spiccio che lei ha letto sui requisiti in ammissibilità ha citato un virgolettato riferendosi alla decisione della Presidente della Commissione di dichiararlo funzionale al processo amministrativo. Io credo che nella sua seconda presa d'atto delle rimostranze dell'Aula lei abbia quantomeno...